Allora, sono a Sforza Freddi con una crema di zucca, salsiccia, gorgonzola e poi l'aceto al valsamico extra invecchiato di Ginevro, 95 anni. Allora, invece con il salto, ci accendono più. Perché, allora, intanto il piatto è la mia, quindi a me piace molto, quindi poi... Perché sai che io... Ma la ragazza modenese... Allora, l'impiattamento devo dire che è carino perché comunque l'hai fatto molto pulito. Insomma, ci proverò alle selezioni di Masterchef, vi presenterò nuovamente con questo, vediamo. Ci parliamo un po' agli 80 e la verandana. Ok, questo cos'è? Un risotto con la salsiccia in botte, l'ho chiamato. In botte di indizia. Il riso come l'hai fatto? Allora, il piatto non è male, la carne conta perfettamente. Si vede che fai questa riprofessione. La salsa ha qualche difetto, leggermente un po' troppo acida. Sudiana sta un po' in collina, no? Un po' in montagna. C'è uno che arriva, c'è il percorso, ci può arrivare qualcosa qui, fai una roba tailandese. Eh sì, però dovrebbe anche trovare i giusti della fidanzata. Devo scegliere quello che andrà in Polinesia questa settimana. Tu pensi di vincere? Io non penso, però la Polinesia mi piace. Tu pensi di vincere? È possibile, l'ho già detto. Tu pensi di vincere? Viva lui come collega. Tu pensi di vincere? Spero. No, è speciale. Davanti allo chef, ma niente. Parami! Che consigli in cucina? Sto giro cucina lui. Ok? Ok.